Lezione numero 6 26 Terminazioni in ESSO A-I-E ADESSO ACCESSO CONCESSO CESSO COMPRESSO GESSO INGRESSO PRESSO POSSESSO SUCCESSO RESSA ECCEZIONI NESSO MESSO E DERIVATI AMMESSO DIMESSO COMMESSO ESSO ESSA ESSI ESSE FESSO VUOTO LESSO STESSO STESSO SPESSO LEONESSA PRINCIPESSA DOTTORESSA POETESSA 27 TERMINAZIONI TERMINAZIONI ERRO A-I-E ESEMPIO FERRO ERRE FERRO GUERRA SERRA TERRA VENTOTTO VENTOTTO TERMINAZIONI IN ERSO A-I-E ESEMPIO VERSO DIVERSO PERSO SERSE VERSO VERSI VENTINOVE TERMINAZIONI IN EMBRE ESEMPIO SETTEMBRE NOVEMBRE DICEMBRE TERMINAZIONI TERMINAZIONI IN ERO A-I-E ESEMPIO ALTERO CLERO ERO ERA GALERA IMPERO LEGGE LEGGE LEGGERO MINISTERO MISTERO PANTERA PISTOLERO PRIMAVERA SEVERO SFERA SINCERO SPERO TORERO ZERO ECCEZIONI CERO CAPINERA VERO NERO BERE SERA AVERE VEDERE SEDERE MANTENERE 31 TERMINAZIONI IN ECO A-I-E CINETECA BACHECA DISCOTECA GRECO IPOTECA SPRECO ECCEZIONI CECE FECE INVECE 32 TERMINAZIONI IN ELO A-I-E ESEMPIO BABELE CLIENTELA GELO MISCELA PARENTELA TUTELA VANGELO ZELO ECCEZIONI CANDELA FEDELE INFEDELE MELA PELO TELA VELA O 33 TERMINAZIONI IN EMMA M BETLEM GEMMA STEMMA FLEMMA ECCEZIONI MAREMMA AVREMMO AVEMMO BEVEMMO BERREMMO PER LA LEZIONE PER QUESTA LEZIONE E' TUTTO CI VEDIAMO ALLA PROSSIMA CIAO CLE TITULO VOCE Grazie.